Musica 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 Benvenuti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore Siamo tornati signori di nuovo su Fortnite Questa volta sono nella modalità da solo ragazzoli Quindi non farò la modalità da 50 contro 50 Ma andrò a giocare appunto una partita In diciamo tra parentesi di tranquillità Da solo Vediamo un attimino quello che uscirà fuori Allora io mi butterò su pinnacoli Quindi vedremo un attimino cosa Riusciremo a fare in questa prima gettata Chiamiamola così Vediamo un attimino come andrà a finire Signori mi raccomando un like Supportare il video di Fortnite Che ve ne posso portare tantissimi altri Quindi mi raccomando chi lo farà grazie per il supporto Non punto alla vittoria reale Ma punto nel giocare bene la partita Siamo anche 88 persone Quindi neanche a di che si è riempita la stanza 100 stranissimo Quindi non puntiamo alla vittoria reale Poi certo se viene raga Benvenga Ma puntiamo più che altro a creare un po' di devasto Qui su pinnacoli Speriamo ovviamente di farlo il devasto Speriamo bene Quindi ci lanciamo Vediamo un attimino se riusciamo ad andare nei primi palazzi Oppure nel palazzo quello centrale Che è quello che bene o male è più Scelto da tutti quanti Allora credo che c'è un bordello raga Io sono forse troppo alto per questa situazione Quindi Sto ammesso molto ma molto male Mi butto qua sotto Ok Vediamo un attimino Mi so buttato qua raga ma Mi sto ammesso male Veramente tanto Cazzo che male Fa un culo un po' Mortacci che male Ah vai Oh quanti metri Che c'ha via questo raga Io questo Leviamo Ce la va Ok Allora ci prendiamo Questo E questo Perfetto Eh Prima kill Abbastanza complicata E comunque abbiamo trovato un avversario Che raga Mi ha tirato certe smitragliate assurde Ho trovato sto scudo E' come l'oro Questo shieldone E' come l'oro raga Quindi lo prendiamo subitissimo Fa un culo un po' No 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 Non fa Buoni 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 raga Che te c'è manna Che te c'è manna Maledetto Quello Mi poteva uccidere Forse tranquillamente Va bene così Va bene così Va bene così raga Va benissimo così Ok Questi io direi Di prenderli Andiamo qua Ok Perfetto Andiamoci Andiamoci verso la safe Oh Resiste a pinnago Raga E farsi anche tre belle killette Sono a quanto soddisfatto Dico la verità E ne rimangono già Già 20 Soddisfazione proprio Di quella incredibile Eh la safe Eh la safe Ma sta lontana Megogomery Ah perché non abbiamo la jump Quindi Qualsiasi cosa Siamo ben protetti Boh Non lo so perché Questo non c'ha capito Un cazzo Questo non c'ha capito Niente un cazzo Ce n'ho un altro Da sopra Bene Ok Ok Vai Sti cazzi Te lo da Ma tu siamo messi bene Allora In safe ci siamo Però Me ne vado più verso laggiù Raga Se riesco ad arrivarci Ne rimane Siamo in nove Siamo rimasti in nove Dai dai La partita mi piace Vi dico la verità La partita mi sta piacendo Perché alla fine Non la sto facendo Non la sto facendo statica Nel senso Me la sto comunque Giochicchiando bene Non è facile niente Però Se mi riesce sta cosa Ok 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 Vai Bello così Bello così raga Eccolo Eccolo Ma io quello che non capiscono Cioè siamo in cinque Raga ma l'altro Di lo stanno Quello sta là Non saprei Ecco Porca puttana Da dietro Da dietro Bastardo Dai ne è stato un'altra Oh lo sapevo Oh lo sapevo Lo sapevo Oh ma solo io e quello Si stavamo a sparare Ma con gli altri Spariti Spariti completamente Mannaggia la miseria Dai facciamocene un'altra Ma peccato raga Ok ragazzi Ci ributtiamo a pinnacoli Quindi seconda partita La prima andrà veramente Molto bene Peccato per quella Cecchinata Che mi ha fatto quel ragazzo Ma comunque ci sta Sette kill Diciamo che comunque È stata una discreta partita Potevo giocare Potevo andare molto meglio Ma Purtroppo così è andata Ok Qui sotto c'è qualcosa di buono Vai io scendo qua raga Ok Scendo qua Per così almeno Comunque io La mia Certo ci fosse un pompa Ci fosse un pompa Pure pure Eccolo Eh ma stava piano Un po' Asci Ho dato una trambata Quello Ok Meno male Io ho tirato Sta pompata raga Come stava venendo Addietro un'altra volta Mi hai detto Vaffanculo Che trambata Io ho tirato Cazzo Ma stava venendo Cazzo Veniamo Prima Mi vuoi buscare Poi non scappi Astruzzo Ma te devasto Vaffanculo E tutto sta quasi Asione Bello Bello raga Il push Fino adesso Mi sta a piacere Sto giocando bene Raga Fino adesso Due belle partite Non mi posso lamentare L'arma nuova Dove la usiamo dopo Adesso sta male Solo di pompa Eh Questo non sarebbe male Mi dispiace per l'arma nuova Tanto io comunque Ho già avuto modo Di provarla Non mi fa neanche Troppo impazzire Però Quello Mi serve per forza Ragazzi Uuuu Lama 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 Quanto culo In questa parte c'è Che culo Raga Buono 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 Mi sentivo Stanno Arrivando Per me Arrivano Da qua sotto Vai 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 a morire Vai a morire Vaffanculo Vaffanculo Super giocherino Raga Super giocherino Dai Altri sei ammazzati Però Se me faccio Me ne faccio un altro Io si Ah Vedi Ok ragazzi Ok Ti hanno aperto L'airdrop Lì ci hanno aperto L'airdrop Bene 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 Siamo rimasti In nove Dai siamoci Eppure questa è una bella partita No lì c'è l'airdrop Ma quello non ha coraggio A aprirlo Non ho capito Che sta facendo Sperando Vediamo un po' Devo solo sperare Di trovare Lanciarazzi Niente Senti Questo raga Mi può servir Come il pane Quindi Io faccio così Ok Mi può servir Forse avrò anche sbagliato Non lo so ragazzi Forse ho anche sbagliato Però Siamo rimasti In cinque un'altra volta No Non mi fa Il bersardo Regà Ho 200 di vita Dai Regà 200 di vita Io dall'alto al basso Lui dal basso all'alto Mi ha ucciso 200 di vita Dai questa è una cazzata ragazzi Questa è una cazzata Proprio assurda Cioè io Dall'alto al basso Gli sparo Gli levo non so quanto Gli avrò tolto 70 80 Non lo so Quello da sotto a sopra Mi toglie 200 di vita Vabbè Comunque Signori Due belle partite Io vi invito a lasciare un bel like Mi raccomando Supportate al massimo questi video Ci vediamo con un prossimo apportamento Sempre qua Con il vostro giocherino Su fortnite Due belle partite Abbiamo fatto le belle kill Purtroppo qua Ci ho detto veramente male Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao